Gemellato il comune di San Gregorio Magno con Valdobbiadene, comune del Veneto, famoso per il suo prosecco. L'evento si è svolto lo scorso 5 aprile nel comune valdianese. La manifestazione, come recita la locandina, simboleggia un abbraccio gregoriano dove tradizione e devozione si incontrano e si fondano insieme in un patto d'amicizia. L'obiettivo del gemellaggio è creare un proficuo rapporto di collaborazione che innescherà una crescita per questi due comuni geograficamente lontani ma culturalmente vicini. Diciamo che oggi poniamo le basi per un patto di amicizia che appunto è all'insegna soprattutto del comune Santo Patrono San Gregorio Magno ma anche perché ci accomuna un'altra cosa, diciamo la vocazione agricola, la tradizione vinicola, ovviamente fermo restando che loro su questo sono molto più avanti e dobbiamo imparare molto da loro perché sappiamo che il Valdobbiadene di OCG è uno dei marchi più pregiati e diffuso in tutto il mondo. C'è questa comunione religiosa perché San Gregorio Magno, qua si chiama San Gregorio, là San Gregorio Magno è il patrono di Valdobbiadene, poi c'è questo curto del vino, loro sicuramente sono più famosi perché il Prosecco ormai è bene, sembra quasi che sia il patrimonio dell'UNESCO. Noi ci difendiamo con la qualità e con la genuinità dei nostri vini soprattutto che poi presentiamo sempre a Baccanalia dove sono molto apprezzati e sono molto benvoluti da tutti. Noi come banca abbiamo uno sportello, qua a Valdobbiadene c'è uno sportello di una banca di credito cooperativo e anche noi abbiamo fatto questo gemellaggio nel gemellaggio perché oggi i colleghi della BCC di Valdobbiadene che si chiama BCC delle Prealpe però filiale di Valdobbiadene sono venuti qua e quindi adesso siamo stati in filiale da noi, abbiamo fatto questo gemellaggio nel gemellaggio ed è stato bellissimo insomma perché poi le banche di credito cooperativo sono organiche per definizione a queste comunità locali perché sono banche locali e quindi tutto torna. Questa presenza qui oggi vuole anche essere l'inizio di cercare di collaborare anche non solo perché effettivamente c'è questo gioco diciamo di santi patroni combinato ma proprio perché effettivamente si possono mettere delle basi per ragionare insieme e sviluppare dei prodotti e delle condivisioni di sinergie strategiche per quello che è l'agricoltura, per quello che è anche il turismo perché insomma io ho visto questo territorio ha un paesaggio bellissimo, non ero mai stato e effettivamente devo dire che merita e quindi anche chi viene qui per la prima volta se effettivamente si sa valorizzare e sfruttare queste occasioni è sicuramente importante. È un lavoro diciamo non così semplice perché è un discorso anche culturale quindi bisogna un po' che la gente se ne renda conto che bisogna collaborare, che bisogna fare insieme il sistema però un po' alla volta ci si riesce, bisogna partire ecco quindi in bocca al lupo e grazie per l'accoglienza e per l'ospitalità che è veramente stata favolosa.